Nella lezione precedente vi stavo raccontando di come bisognerebbe creare un programma di interazione, quindi ritorniamo a parlare di quello che è lo schema fondamentale, ovvero vi arriva la rassegna stampa, voi prendete la rassegna stampa da lì, cercate ovviamente di trovare un qualcosa che possa in un qualche modo stimolare la vostra fantasia, il vostro modo di essere, quello che volete comunicare ovviamente agli ascoltatori, a quel punto dovete sviluppare il famoso pensiero laterale che è la cosa più complicata forse da fare, il pensiero laterale ve lo dicevo già proprio nelle scorse diciamo così lezioni, il pensiero laterale è la cosa più complicata perché? Perché molte volte, ci è capitato anche proprio dal vivo durante le lezioni che facciamo con M Academy, con tutti gli studenti, è difficile riuscire a trovare degli argomenti che possono essere interessanti e di discussione per le persone, cerco di spiegarmi un attimo meglio, quando voi volete fare interazione e volete raggiungere il maggior numero di persone possibili, voi cercare di stimolare le cose che vi dicevo prima, toccare quei punti chiave che possono essere i ricordi, l'effetto memorabilia, animali, bambini, cibo, oppure stimolare la fantasia dell'ascoltatore in un altro modo, è un po' come perché diciamo se voi consideraste la radio un po' come un grande enorme bar dove tutti quanti vanno a parlare di sport, penso che tutti quanti abbiate capito l'esempio, voi arrivate al bar, si parla di calcio, si parla di inter, di milan, di juve e diventa tutto molto facile, molto di aggregazione, ecco l'idea sostanzialmente è quella ma vi avevo raccontato proprio nella lezione precedente di come è utile schematizzare la rassegna stampa che vi arriva, ora l'abbiamo fatto in maniera approssimativa, adesso andiamo proprio bene nel dettaglio per capire cosa succede vi faccio un esempio classico di quello che potrebbe essere una giornata normale diciamo così di 13 pm, escludendo quello che è il discorso della post produzione, quindi facciamo soltanto l'abc, arriva la rassegna stampa, bisogna cercare la notizia, si trova la notizia e a quel punto bisogna riscriverla questo è un consiglio che vi do io fondamentalmente che avevo già detto l'altra volta, dovete sempre riscrivere la notizia, riscriverla per un semplice motivo, perché se voi quando leggete una notizia in onda vi trovate di fronte un foglio completamente scritto fatto di righe piccole, fatto di sottolineature, di magari evidenziature e voi state parlando a un microfono, dovete ricordarvi sempre di stare a fuoco con il microfono come vi ha spiegato Marco Mazzoli proprio qui nell'altra masterclass, visto che avete l'occasione di vederne diverse e di parlare a fuoco con il microfono a fuoco con il microfono vuol dire che voi siete ovviamente dritti verso quello che è il microfono, a quel punto la notizia voi ce l'avrete sul banco e quindi ce l'avrete come in questo caso ovviamente sotto gli occhi, nel momento in cui voi parlate e guardate con gli occhi quello che potrebbe essere un foglio a quattro pieno di parole vi posso garantire che la spontaneità, la naturalezza con cui dovreste magari leggere una notizia non è così naturale, così spontanea perché in automatico diventerebbe un po' macchinoso riuscire a percepire quelli che sono i punti fondamentali allora facciamo una cosa, andiamo a fare esattamente quello che teoricamente io faccio in una semplice giornata di 13 pm ovvero rassegna stampa, quello che vi dicevo e troviamo l'argomento e provo a farvi capire cosa vuol dire sviluppare il pensiero laterale allora ovviamente per comodità abbiamo stampato la rassegna stampa di ieri proprio di 13 pm ora vi faccio giusto vedere un attimo quelle che possono essere le notizie per esempio vedete, ne arrivano di ogni tipo, dal mondo dello spettacolo, animali, tempo libero arriva praticamente di ogni, cosa succede? voi vi dovete prendere i vostri 10-15 minuti ovviamente per dare un occhio anche se una volta che leggete quello che è il titolo, il titolone già potete ovviamente capire di cosa si tratta e dove potete andare a parare e cosa potete andare a chiedere all'ascoltatore ora sempre per comodità vado a riprendere la notizia di cui poi abbiamo trattato proprio qualche giorno fa ovvero quello di Kim Kardashian che ha danneggiato per errore l'abito di Marilyn Monroe per facilitarvi vado a leggervi velocemente quella che è la notizia ovvero dove Kim Kardashian è stato consentito a Kim Kardashian di indossare l'abito di Marilyn Monroe dove con quell'abito Marilyn Monroe ha cantato Happy Birthday in Mr. President a JFK penso che sia una di quelle cose che ci ricordiamo tutti siamo al Met Gala 2022 poi ci sono una valanga di informazioni perché dopo l'associazione che le ha concesso di utilizzare l'abito ha domandato se era necessario, sì, no, ma lei non ha ancora ufficialmente detto nulla riguardo all'accaduto si sa soltanto che l'abito è stato danneggiato sulle cuciture ora una volta che avete letto tutto questo mappazzone, quello che vi dicevo prima adesso lo andiamo a vedere nello specifico, è inutile che voi prendiate questo foglio e vi mettiate a sottolineare o magari a cerchiare le parole, no, dovete semplicemente rifarlo la notizia l'avete letta, la notizia è nella vostra testa a questo punto cosa bisogna fare? bisogna semplicemente andare ad analizzare punto per punto e scrivervi punto per punto quello che volete dire partiamo dal punto fondamentale, dove siamo? siamo ai MET Gala 22 vi fate un bel riquadro, un qualcosa che vi indichi che siamo al MET Gala 2022 che cos'è il MET Gala 2022? è un gala di beneficenza ok, cosa è successo? è successo che Kim Kardashian, non c'è neanche bisogno di scrivervi ovviamente tutto che Kim Kardashian ha rotto abito di Marilyn Monroe altra frecciolina l'abito ovviamente è nella vostra testa in cui lei cantava happy birthday mister president ok, ci siamo a chi? a JFK dove? al Madison Square Garden ok, ora abbiamo schematizzato in cosa? quattro punti, cinque punti, tutta questa notizia qua ora, non c'è bisogno di essere un genio per capire che nel momento in cui voi avete dei riquadri dei rettangoli dei cerchi un qualcosa che possa richiamare la vostra attenzione cosa succede? siete a fuoco col microfono? leggete quello che dovete leggere ovviamente il vostro occhio cade su quello che è schematizzato e in automatico viene tutto molto più semplice quindi voi sapete già Matt Gala 2022 che è un gara di beneficenza Kim Kardashian ha rotto l'abito di Marilyn Monroe l'abito che utilizzava la diva nel cantare happy birthday mister president siamo al Madison Square Garden canzone che lei ha dedicato a John Fitzgerald Kennedy cioè in un attimo in un attimo abbiamo praticamente detto tutto quello che c'era da dire in guardate quante righe ora provate a fare lo stesso esercizio voi a casa magari prendendo una semplice notizia del web provate proprio a fare questa cosa semplice notizia del web e provate a capire veramente magari quanto vi può venire semplice schematizzare magari in 4, 5, 6, 10 parole piuttosto che magari non so proprio sottolinearle e fatelo come esercizio provate a leggere la notizia buttando un occhio e guardando le cose che avete sottolineato invece magari riscrivendole ora torniamo invece a parlare di quello che poi è il nostro obiettivo ultimo l'obiettivo ultimo è quello di trovare un argomento che possa suscitare interesse verso le persone quindi di cosa stiamo parlando stiamo parlando di abiti stiamo parlando di moda potrebbe essere oppure stiamo parlando di star ok direi che abbiamo praticamente già trovato quelli che sono i punti chiave della notizia a questo punto bisognerebbe utilizzare il pensiero laterale se vogliamo andare dritto per dritto cosa succede stiamo parlando di abito ok a quel punto la domanda più classica che potrebbe venirmi in mente è il mio abito preferito stiamo andando dritto per dritto ok si parlava di abiti di moda di star ok se io faccio una domanda il mio abito preferito ok è un è una domanda lecita alla quale possono rispondere magari faccio un esempio 50 persone ok per darvi un numero a caso rispondono 50 persone che tutti noi abbiamo un abito adatto ok l'abito preferito però è difficile da spiegare è molto complicato da dire ah il mio abito preferito è che ne so un giubbotto del 1972 oppure piuttosto che un abito che ho comprato ok andiamo molto molto sul sul semplice provate a ragionare pensiero laterale abiti moda star allora bisognerebbe provare ad andare ovviamente lateralmente per esempio moda ok vi ricordate tutti i punti che avevo detto prima proviamo a suscitare magari l'effetto memorabilia ok quindi qualcosa che non esiste più che possa suscitare i ricordi degli ascoltatori faccio un piccolo cambio allora pensiero laterale si potrebbe dire potremmo domandare per esempio un capo che che non esiste più che non esiste più ok un qualcosa che non esiste più oppure visto che stiamo parlando già di cose datate allora ancora meglio senza dire guardate come si va ovviamente lateralmente senza dire la vostra età dite un qualcosa che un giovane non capisce ok cioè io che ho 40 anni se dovessi dire il bomber per esempio ok ho suscitato l'effetto memorabilia l'effetto ricordo sto stimolando la fantasia e vado ovviamente a anche creare quella sorta di senso di sfida di gioco nell'ascoltatore perché perché sto chiedendo ai grandi diciamo così di dire qualcosa che i giovani non possono capire che sono praticamente gli stessi giochi che trovate fondamentalmente settimanalmente su facebook su instagram sono tutte quelle cose che funzionano perché perché va a stimolare il ricordo ora eh ammettiamo che la notizia magari fosse basata su eh che ne so proprio incentrata su kim kardashian anziché fare magari eh una domanda sulla star si potrebbe fare una domanda sulla serie televisiva visto che eh ovviamente lei è protagonista della serie televisiva eh sapete che ha fatto qualcosa come 23 25 serie tv eh altro esempio vediamo se riesco a girare il foglio ok ce l'ho fatta allora facciamo un esempio parliamo di kim kardashian ok voi avete dato tutta la notizia di kim kardashian avete raccontato che ha rotto l'abito di Marilyn Monroe ok volo pindarico associazione di idee pensiero laterale stiamo parlando di kim kardashian beh dai penso che sia eh ovviamente famosissima la serie di kim kardashian al passo con i kardashian siamo arrivati alla ventitrettima stagione eh io ho avuto la fortuna di non vedere mai nemmeno una puntata allora facciamo una cosa vorremmo chiedere a tutte le persone che magari eh sono a casa in questo momento è la serie tv che hanno visto tutti e io no questo è quello che vuol dire utilizzare il pensiero laterale non andare dritto per dritto se stiamo parlando abbiamo dato una notizia di moda ma ovviamente tutti si aspettano che voi facciate una domanda sull'abito sul vestito invece vi ho fatto vedere quello per esempio che potrebbe essere una domanda classica beh il mio abito preferito sì ok bello che palle mentre dall'altra parte per esempio lo stimolare la fantasia andando a parlare di cose del passato vi ricordate i punti che vi dicevo memorabilia eh l'effetto ricordo che funziona sempre poi nell'argomento che vi dicevo prima c'era anche l'effetto sfida cioè di quello magari un po' più grandicello che diceva la cosa che non veniva capita dai giovani oppure pensiero totalmente laterale stiamo parlando di Kim Kardashian allora parliamo di Kim Kardashian parliamo della serie serie tv e guardate qua la serie tv che hanno visto tutti e io no cioè non stiamo parlando non stiamo facendo una domanda banale come qual è la tua serie tv preferita dove il 90 per cento delle persone potrebbero rispondere la casa di carta ok o magari Squid Game facciamo una domanda la serie tv che hanno visto tutti e io no ok quanti amici avete che vi hanno parlato di una serie televisiva che magari voi non avete visto vi rendete conto la il ventaglio che vi si può aprire di fronte ovviamente e con le risposte con la moltitudine di risposte che vi possono dare gli ascoltatori quindi provate a farlo proprio come esercizio questo poi nella prossima lezione andiamo proprio ad analizzare gli argomenti trattati in 13 pm in modo tale che magari possiate avere proprio un punto di riferimento e possiate capire quanto le quanto le persone rispondano a determinati argomenti e quanto magari altri argomenti invece suscitino meno interesse quindi esercizio da fare adesso appena finisce la lezione volate su un qualsiasi sito di informazione che potete trovare dal TG com oppure notizie strane dal mondo ce ne sono un miliardo e provate a fare questo esercizio che abbiamo appena fatto perché questa cosa vi può essere utile ovviamente ogni giorno della vostra vita ogni volta che dovete lavorare in radio che dovete creare interazioni con il pubblico questa cosa creare questi schemi e soprattutto utilizzare il pensiero laterale sarà fondamentale che